Un'operazione di polizia non aria è stata condotta ieri dalla Polizia Municipale di Gela presso il mercato settimanale. L'intero perimetro mercatale è stato cinturato da decine di agenti anche in Borghese di Polizia Municipale. Durante l'operazione sono stati sequestrati ortaggi, bancarelle, stereo e un numero particolarmente rilevante di CD privi di marchio SIAE. Sono stati inoltre verbalizzati numerosi ambulanti privi di posteggio all'interno del mercato. L'operazione si inquadra nell'ambito del programma amministrativo volto a riportare ordine e legalità nell'economia cittadina. Il comandante Giuseppe Montana. Abbiamo contotto delle operazioni di polizia non aria per riportare un po' di ordine e di legalità nell'ambito dell'economia cittadina. Perché sappiate bene, si sa bene che la concorrenza estereale sicuramente comporta un grave danno all'economia. E soprattutto a coloro che operano nell'ambito dell'economia cittadina e quindi i commercianti. Un'ultima operazione a non aria che abbiamo contotto è riguardata il mercato settimanale. Bene, nell'ambito di questa operazione che ha visto impegnate decine di vigili urbani, anche in Porghese, sono stati sequestrati numerosi beni, tra cui addirittura un'intera bancarella, numerosi CD, uno stereo, anche frutta o meglio ortaggi. Si tratta di un'operazione non isolata, ma di un'operazione che costituisce l'ultima delle tante eseguite all'interno del mercato settimanale, dove sono state rilevate numerose sanzioni. Ultimamente si parla di decine e decine di verbali fatti all'interno del mercato settimanale. Ma la polizia a non aria non si è limitata ovviamente al mercato settimanale. Come si sa bene, ultimamente ha toccato numerosi aspetti della vita cittadina. Anche altri mercati rionali, come quello di via Madonna del Rosario, e anche ambulanti abusivi, come anche numerosi esercizi a posto fisso. Si tratta del tentativo che la polizia municipale, insimpiosi con l'amministrazione comunale, sta tentando di realizzare, proprio per riportare serenità e legalità all'interno dell'economia cittadina.